L'approfondimento del nostro telegiornale, parliamo di impresa in chiave giovanile, la grande sfida se ne è parlato naturalmente dell'impresa 4.0, questa innovazione, questa tecnologia a servizio dell'uomo che non sostituisce l'uomo, ci teniamo a sottolinearlo, ma che guarda degli aspetti importanti che non soltanto quelli della produzione, quindi del fatturato, quindi dei numeri, ma anche alle persone. E di certo la grande sfida è stata accolta in questi tre anni da Marco Manzoni, presidente del gruppo Giovani di Confindustria Bergamo. Buona giornata e benvenuto. Buona giornata a voi, benvenuti, grazie. E siamo al termine di questi tre anni, a lunedì ci sarà appunto l'assemblea, il rinnovo delle cariche, però facciamo un passo indietro, proprio riavvolgiamo il nastro e cerchiamo di capire come era la realtà di impresa, soprattutto con l'occhio dei giovani imprenditori, tre anni fa e come la lascia a quest'oggi. Certo, tre anni fa mi ricordo molto bene che avevamo concentrato il nostro discorso sul concetto di surfare sulle onde della crisi, ma nell'accezione positiva di prendere ciò che è positivo, nel senso non di minaccia ma di opportunità. Quindi chi, se non il giovane imprenditore, deve cogliere questo come aspetto di mettersi in gioco, ecco perché anche nella nostra assemblea di lunedì parleremo di diritto e di dovere, quindi il nostro dovere è quello di ridisegnare il presente per traguardare il futuro. Quindi rispetto a tre anni fa siamo riusciti a mettere in pista degli allenamenti continui, di innovazioni, tale per cui ci hanno portato oggi, dopo un triennio, di fronte a delle sfide nuove che è la quintessenza, quella della sostenibilità dell'impresa. Allora, guardiamo proprio dentro le imprese bergamasche, cosa è stato fatto e quello che si dovrebbe ancora fare, perché dobbiamo dire che non tutte le imprese hanno questa visione così lungimirante del futuro, soprattutto l'uomo, il dipendente, chi lavora all'interno dell'impresa, cosa deve trovare in essa? Abbiamo sottolineato molto il concetto della persona al centro, quindi questo è un paradigma che deve essere nella testa di tutti noi, che al di là di industria 4.0, quindi l'innovazione, l'automazione, il robot umanoidi, saranno al nostro fianco per toglierci degli impegni gravosi, dei pesi che magari creano comunque danno alla persona, quindi in assistenza, in aiuto e non in sostituzione. Certo che questo genera una formazione continua anche del lavoratore, quindi una formazione ad esempio nel nostro ambito, anche in ambito meccatronico. Quindi questa formazione consente all'operatore di essere sempre più formato, pronto, alle nuove dinamiche lavorative che sono dettate anche dalle nuove tecnologie. È chiaro che il 4.0 è uno stimolo per essere sempre più pronti alle richieste del mercato, ma questo passa soprattutto dalla centralità della persona. Questo è un segnale forte che vogliamo dare. È stato un po' anche il manifesto di Confindustria, stiamo vedendo anche delle immagini che in qualche modo guarda proprio a questo sguardo. È innovativo anche dal punto di vista proprio dell'approccio sociale dell'impresa, non soltanto quella appunto economica. Ma gli imprenditori bergamaschi, i giovani imprenditori bergamaschi, sono su questa linea tutti? Oppure si fa fatica, come spesso capita, insomma a raccogliere i frutti? Sì, sì, è chiaro che come ogni cambiamento ci sono alcune persone più avvezze, un po' più preparate, altre meno. Certo è che noi dobbiamo essere l'esempio, quindi con l'esempio infondere anche tramite il gruppo giovani e Confindustria stessa, infondere in tutte le imprese, soprattutto i nostri associati, questo concetto che dobbiamo prepararci e rendere i nostri anche passaggi generazionali, perché non dimentichiamoci che le imprese hanno nel passaggio generazionale un elemento critico che a volte l'impresa ne beneficia o addirittura a volte purtroppo non ha conseguenze positive. Quindi in questo concetto profitti sì, necessari per la competitività, ma il come. Quindi il come vuol dire essere sostenibili e rispettare l'ambiente, soprattutto, ripeto, al centro ci deve essere la persona perché è l'elemento che traine a qualsiasi tipo di tecnologia. Giovani che migrano all'estero, giovani che tentano una strada all'interno di una realtà territoriale come la nostra, c'è chi ha la fortuna di portare avanti un progetto già iniziato dalla famiglia e c'è chi prova con delle nuove start-up anche così a reggere il sistema economico non facile. Ci sono dei giovani imprenditori che hanno creduto in questo e ci stanno provando? Sì, ci sono e le statistiche dimostrano che soprattutto in questi tre anni, perché poi è quello che abbiamo più registrato anche personalmente di presidio in diretta, abbiamo registrato degli incrementi di questi stimoli di imprenditività. Quindi questi giovani che cercano di fronte a una minaccia anche di un lavoro che cambia velocemente, costantemente, di crearsi una propria opportunità. E qui siamo andati in sinergia tra l'impresa tradizionale esistente e la nuova impresa. Quindi come se una avesse bisogno dell'altra per essere più innovativa. E quindi abbiamo trovato anche con alcune realizzazioni e progetti del territorio, con la nostra Università degli Studi di Bergamo, abbiamo trovato dei bellissimi momenti in cui c'è contaminazione e cultura per portare avanti questa nuova imprenditoria. Non è semplice, ma che cos'è che è semplice? La strada in salita porta verso BTV altre, altrimenti se è in discesa qualcosa non va. Ma questa sinergia è davvero molto importante perché consente all'imprenditore, tra virgolette tradizionale, di portare in casa nuove idee e nuove appunto tecnologie. E l'imprenditore che vuole farsi strada è che abbia l'esperienza e la saggezza di portare avanti la propria idea. E soprattutto di mantenerla made in Bergamo, ovviamente, perché poi la tentazione di andare oltre dove magari il costo è inferiore, anche della burocrazia possiamo dirlo, perché penso che questo sia un aspetto importante, però se si fa bene l'impresa e si riesce a dare questi aspetti positivi che ha accennato Manzoni, anche il territorio dovrebbe essere protagonista di spondere e di conseguenza anche le banche. Eh sì, perché c'è in corso una grande rivoluzione in questo senso e lo sappiamo bene dal momento che accettiamo di tenere in tasca i nostri smartphone. Quindi è una continua sfida e proprio per questo la sfida, ci piace sottolinearlo e lo diremo anche lunedì nella nostra assemblea di cambio del nostro gruppo come persone, ma continueranno i progetti dedicati a questo. C'è già il nome? C'è già il nome? Il nome c'è già. Si può dire il nome? Non si può dire. Non si può dire. Ma perché ci deve essere una formalità di passaggio. Non è che non leggiamo domani sull'Eco di Bergamo. No, assolutamente. Allora va bene. Si leggerà martedì. No, siamo in casa, siamo in famiglia assolutamente, no sui giornali, intendendo in generale, però voglio dire no. Qui c'è un bel significato perché c'è una continuità progettuale, cioè l'elezione vista come un momento... E quindi c'è un passaggio davvero di consegne. Sì, di innovativa continuità. Perfetto, questa è la cosa che ci interessa, soprattutto giovani e imprenditori che ci credono e portano non soltanto appunto una continuità produttiva, ma anche una sfida sociale sul nostro territorio. Grazie, grazie a Marco Manzoni. Quindi lunedì dunque l'Assemblea, scopriremo chi porterà avanti appunto questo progetto. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo i modi per comunicare.